poi mi piace parlare più delle cose che riesco a a vivere io comunque con la mia analisi perché io penso che ognuno dovrebbe parlare di quello che veramente poi nel campo sviluppo lavoro comunque perciò io preferisco sempre parlare delle mie analisi magari quando dovrei intervenire niente spiego un po di quello che è venuto fuori da queste come mi sono accorto e cosa è venuto fuori da queste analisi io lavoravo in cartiera qui a serra valle sesia è una fabbrica che fanno facevano carta adesso è chiuso comunque nel momento di pausa avevo non so mezz'ora un quarto d'ora mi mettevo lì e filmavo le scie perché qui siamo nella valsesia e lì dalla è proprio accanto al monte fenera dove c'è questo passaggio di ufo comunque di ufo oggetti volanti non identificati ora ero lì che mi mettevo lì in pausa e mi facevano questi filmati di un quarto d'ora dieci minuti e poi dopo perché filmavo le scie poi dopo me le analizzavo a casa con la maviola sportiva per vedere cosa si vedeva in queste queste scie comunque la forma degli aerei o che cosa non so avevo questa curiosità di capire cosa spruzzavano e il motivo anche perché facevano tutte queste scie comunque poi mi sono accorto che guardando i filmati con la maviola sportiva che passavano degli oggetti ad alta velocità oggetti neri ma ma non erano roba di vicino comunque perché si vedevano che passavano anche anche dietro le scie ci sono proprio i filmati cioè dei filmati non è uno due perché ne ho fatti tanti comunque era il periodo 2009 2008 2009 comunque e allora avevo questa curiosità di capire cosa fossero questi oggetti perché ho sempre pensato comunque che esistono gli ufo però non avevo le prove come tutte quelle che si interessano di queste cose ci sono tante opinioni e tante cose che non si capisce non si capiva cosa realmente esisteva comunque allora ho scaricato un altro programma uno per ingrandire uno per per variare i colori mi sono messo prima ingrandire più possibile cercando di un programma che non sgranasse le foto comunque una volta che sono riuscito a ingrandire abbastanza un buon ingrandimento che non sgranava poi mi sono messo a contrastare i colori ma sempre comunque nell'arco di un mese anni comunque che è sempre tempo libero che avevo non era una cosa continua era sempre una cosa era fatta per passione per per curiosità mia allora piano piano questa analisi ma portato prima ingrandire più possibile poi dopo a variare i colori che variando i colori riuscivo a vedere le sagome perché veniva fuori delle sagome abbastanza anche interessanti come contorni poi dopo anche facendo degli errori magari schiacciavo delle cose che non dovevo schiacciare perché i programmi non è che li conoscevo non li conoscevo bene i programmi perché io erano le prime armi anche e queste cose non avevo una esperienza di di analisi o computer comunque e allora sbagliando è uscito anche una foto che si vedeva non solo la sagoma ma si vedeva anche dentro si riuscì a vedere le teste degli alieni e per me risultavano le teste degli alieni comunque degli schermi si vedono degli schermi delle persone che sembra che camminavano comunque una cosa stranissima però sono rimasto come dire impressionato però non gli ho dato più tanto peso perché diciamo è possibile una roba del genere perché anche essendo abbastanza scettico non subito me sono riuscito a come si dice a condensare questa cosa come una verità via però nell'arco dei mesi degli anni ho cercato di ricreare quella analisi che era venuto fuori poi per caso perché per caso è venuto fuori come una combinazione di una cassaforte che si è aperta però poi per andare a aprire quella cassaforte e farlo ogni volta che io volevo mi ci è voluto a quasi tre anni di analisi analizzare foto prima le mie che avevo io poi avevo creato un gruppo fu che passione che mettevo le mie foto e poi c'era altra gente che metteva anche le loro e li analizzavo anche le loro comunque vedere quelle più belle che venivano fuori e all'inizio si vedeva poco poi alla fine nell'arco dei mesi degli anni si è cominciato a vedere qualcosa veramente di pazzesco comunque queste analisi con contrasti di colore non vengono modificate da me vengono solo prese e variate colori perché molte potrebbero pensare che metto lì con questi programmi o qualcosa che li costruisco ma invece no io mi metto lì e cambio soltanto la contrasto del contrasto di usare il colore verso un qualcosa che viene fuori la sagoma io vado verso quella per fare affiorare di più quella sagoma o dagli più tonalità o meno tonalità a questa immagine che dosando con questa tonalità può venire a vedersi come una sfocatura di una lente comunque che te la regoli e comincia a vedere bene o male comunque secondo dove la regoli veniva fuori un'analisi così comunque che veniva migliorata nell'arco del tempo sempre di più non so se avete visto le mie analisi all'inizio magari poi mi metto qualcosa accanto questo video però è una cosa pazzesca anche da da cominciare a credere perché io dico la verità ci è voluto un po prima che riuscivo a credere al cento per cento questa cosa però poi dopo che ho fatto i miei controlli ho dovuto crederci per forza perché non c'era un altro passaggio di altri non dovevo credere altri era tutto un lavoro mio che prendevo la foto me l'analizzavo anzi scattavo la foto me l'analizzavo e venivo fuori queste cose come quello lì del vascello serpente che l'ho fatto qui dal cimitero di borgoscese verso il monte fenera e lì dal cimitero al monte fenera ci sarà linea d'aria non so 2 km 3 km e poi fatta l'analisi riesce a vedere la testa degli alieni dell'alieno serpente io a credere a questa cosa all'inizio non è che ci credevo tanto comunque però facendo l'analisi e venendo fuori poi sempre migliore alla fine è una cosa spettacolare da vedere quello lì adesso ve lo metterò qua perché prima cosa esce fuori anche il simbolo dell'astronave adesso io sono anche allenato nell'arco degli anni a vedere anche magari le analisi però questa roba qua è chiara che si può vedere da tutti comunque una roba del genere vi dico che secondo me gli alieni esistono ormai mi sono convinto al 100% e ci sono molte razze comunque non è solo una razza perché io penso che ogni razza che noi abbiamo sul pianeta ci sia poi una forma umanoide sia dei filinoidi sia dei rettili sia di qualsiasi cosa che noi potremmo pensare sicuramente magari non li vediamo tutti ma nelle mie analisi possono vedere comunque degli esseri che sembrano dei rettili con testa di coccodrilli però sempre forma umanoide comunque parlo ci sono i grigi ci sono gli umani ci sono felinoidi che sono tipo dei gatti o dei leoni la cosa è stranissimo comunque poi c'è la collezione personale delle macchine delle ufo macchine perché mi piacciono tenere queste foto anche delle degli ufo che sembrano delle auto comunque ce ne sono molte una cosa spettacolare anche da vedere poi dopo quando analizzi la foto la emanazione di colore è troppo diversa da una foto normale piatta a queste a queste foto che poi sono questi oggetti strani questi ufo comunque perché emana un colore più vivo più più nitido come emanazione di colore non è una foto normale comunque poi è una foto anche che contiene un pacchetto di informazione perché quello che poi io vado a vedere nell'analisi viene trasmesso tutto in questa foto comunque viene trasmesso tramite queste onde che ho chiamato onde anomale ma ci sarebbe da parlare un'infinità un'infinità di ore di tempo di queste cose sicuramente è una cosa nuova fantastica che prima di poterla assimilare bene passerà comunque un po' di tempo per tutti come è successo per me comunque niente vi saluto e ci sentiamo poi in qualche diretta che faremo anche devo capire ancora come regolare anche le dirette su facebook perché avevo scaricato questo programma per fare anche dei video così perché di solito per registrare uso cantasia però adesso ho preso un altro per poter fare anche poi le dirette su facebook e vediamo se riesco a impostarlo perché non sono molto pratico con questi programmi devo studiarci un po' sopra comunque niente vi saluto tutti e ciao ci sentiamo grazie